Altre domande? Ti ho visto un paio di volte arrabbiati perché i tuoi compagni sulla fascia non partivano? No, no, diciamo che loro erano una squadra che comunque si sono chiusi e partivano proprio in contropiede e non era facile cercare la giocata davanti, quindi capita o abbiamo sbagliato magari qualche passaggio di imprecisione, è vero, proprio perché comunque loro erano chiusi bene, erano messi bene in campo e credo proprio che ci sia mancata la giocata vincente, purtroppo sono due domeniche e non facciamo gol però non farei un dramma proprio perché ci creiamo e andiamo avanti, siamo davvero arrabbiati vorremmo giocare di nuovo la partita domani proprio perché c'è un grande dispiacere per noi e per tutti quello che è stato stasera, per i tifosi comunque che ci hanno sostenuto fino alla fine però credo che abbiamo davvero cercato di portare fino al novantesimo, di fare gol, di portare punti a casa per noi e per tutti quanti, abbiamo giocato davvero per tutto lo stadio, quindi non voglio che si dica che diciamo siamo stanchi, non è vero, ci abbiamo creduto e continueremo a crederci perché il campionato è lungo